Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla Afipili, tra Montelupo ed Empoli Est, chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni, con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Su raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione, restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. La viabilità cittadina a Firenze per lavori sulla rete idrica in via dei Baldovini, restringimento di carreggiata. I traghetti, a causa delle avverse condizioni meteo, potrebbero esserci cancellazioni per i collegamenti con le isole. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!